E' stato inaugurato nella mattinata di venerdì 5 aprile il nuovo scolmatore del canale di ritorno a Nole. Lo scolmatore è un vero e proprio canale in grado di diminuire la portata di piena di un torrente, di un fiume o di canali utilizzati per irrigare i campi ed è capace di prelevare una quantità d'acqua in seguito al superamento dei livelli di soglia. Funziona in pratica come un bypass idraulico e consente appunto di diminuire il livello di piena di un qualsiasi corso d'acqua. Quello di Nole è il primo di quattro interventi all'interno di un quadro più complesso per la realizzazione di opere per la mitigazione del rischio idraulico. Gli interventi proposti dalla città metropolitana di Torino sono inseriti nel cosiddetto quadrante nord-est e danno lo scopo di attenuare quei rischi dovuti alla possibilità di esondazione del complesso sistema di canali irrigui che interessano quest'area inserita nel bacino idrografico della Stura di Lanzo. L'idea degli interventi in quell'area nacque da un tavolo di concertazione tra Regione Piemonte l'allora provincia di Torino e i comuni colpiti dall'alluvione del settembre del 2008. L'intervento appena inaugurato comprende un canale lungo 140 metri di due metri di base e un metro di altezza, l'attraversamento di una strada sterrata che fiancheggia il canale di Ciriè, una stradina di manutenzione e nel tratto finale è stata costruita anche una vasca di dissipazione destinata a ridurre la velocità e l'energia dell'acqua che defluisce prima di giungere nello scarico del ramo secondario del torrente Stura. Per poter accedere ai terreni agricoli posti a monte dello stesso bypass è stato infine costruito un piccolo ponte in calcestruzzo. Un primo intervento questo qui per la messa in sicurezza del territorio del Ciriacese diciamo così fin quasi a settimo perché i canali che partono da Lanzo e arrivano al Po non avevano degli scarichi in Stura. Il che cosa significava? Che nel momento in cui ci sono delle piogge molto forti i canali si riempiono oltre dell'acqua di derivazione e dell'acqua meteorica. Riuscire a scaricare prima l'acqua di derivazione nel momento in cui c'è un allarme meteo vuol dire salvare il territorio, vuol dire che i canali a questo punto svuotati dall'acqua di derivazione assorbono tutta l'acqua meteorica e quindi evitano l'allagamento a valle dello scolmatore.